Marco Drums Games Trophy Hunter benvenuti nel trofeo Golia di SnowRunner benvenuti benvenute amici e amiche mie andiamo a fare il trofeo Golia di alzare 5 metri di terra un un rimorchio della benza siamo con questo camion fighissimo siamo nel Michigan Michigan Black River siamo nel garage e dobbiamo andare fuori dal garage a destra prendere qui a sinistra tutta la strada e siamo la stazione di rifornimento che è qua ok ragazzi bisogna andare qui ok quindi seguite la strada con me allora io ho preso vabbè questo altro ciclo qua stavo facendo dei lavori di togliere le rocce ce ne sono veramente tante un pianino stavo cercando di togliere le rocce perché è sempre un po' burrascoso salire di qui ho preso la prop crane 320 per tirare il suo a 5 metri il rimorchiozzo qui stavo facendo i lavori praticamente è più vicino è subito qua eccola qua il rimorchio è quello la ok arriviamo ok allora gancio manovra gru buttiamola fuori attacchiamo quindi facciamo una cosa così dalla vicina ora tiriamo il gancho ok e alziamo va vai alza 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 correttina il trofeo golia è preso e raga e ragazzi e ragazzi e ragazzi e ragazze questo è bellissimo trofeo golia preso quindi vi consiglio di madonna che bug grafico di fare come ho fatto io nel video di venire fino a qui con questo mega camioncione e prendere di peso di peso il mezzo ciao a tutti ragazzi mi raccomando di seguire marco drums games channel per tantissimi altri video su snow runner tantissimi giochi diversi e platini 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 trofei 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 ciao ragazzi alla prossima mi raccomando di seguirmi sui social lascio tutti i link in descrizione e su twitch per le live ciao 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 amici ciao raga ciao mitiche ciao mitici ciao